ben ritrovati carissimi amici di fanta world 27esima giornata di serie a e di fantacalcio e quindi venti settesima puntata del fantacalcio prima di iniziare e di salutare salvo e ricordare a tutti i nostri utenti di scaricare un app molto utile ovvero l'app one football per tenere conto di tutte le statistiche marcatori classifiche notizie di mercato anche sul caso i card ovviamente quindi tutto ciò che concerne il calcio italiano e non solo trovate tutto lì nell'app one football da scaricare ovviamente per a us e android ma questi cardi cosa si deve fare ormai chi ce l'ha è condannato neanche paloschi ti danno per i caldi niente niente che paloschi ha più probabilità di giocare in questo momento e di segnare ok allora giornata che si apre di venerdì ormai è diciamo un abituè siamo diventati di questo venerdì e si chiude di lunedì altrettanto diciamo cosa molto molto normale di questi tempi di venerdì lunedì quindi occhio alla formazione al solito da schierare prima di venerdì alle 20 e 30 quando andrà in scena juventus udinese e allegri da una bella notizia perché svela i titolari perché poi ovviamente c'è la partita contro l'atletico quindi potrà esserci turn over e quindi occhio ovviamente a chi schierare a proposito del turn over precedenti chi prende in attacco con le dovute precauzioni ma appunto potrebbero riposare mangi ci potrebbe risultare ronaldo anche se magari secondo me qualche minuto lo farà sempre quindi ronaldo lo confermerei poi metterei di bala e bernardeschi per chi lo ha visto attaccato salvo in difesa invece da entrambe le parti nell'udinese è difficile trovare qualcuno magari l'arsen se può prendere una sufficienza e i fessori centrati meglio di no e nella juve tutti ti pensi di che gioco quindi aspettate delle ufficiali e rugami può essere una idea se hai fatto il no magari può avere minuto a giurirlo probabilmente perché è lì che è appunto quello che ho iniziato a riposare Claudio al centrocampo si possono confermare Emre Can e De Paul reduci da due gol De Paul però è difficile confermarlo comunque se è sbloccato sul rigore contro la Juventus non sarà facile e quindi è difficile mettere qualcuno al centrocampo dell'udinese Emre Can titolare si può confermare così come l'intero pacchetto ecco centrocampo Juventus L'altra sfida al Tardini sabato alle 18 e Parma Genoa salvo Jacoponi o Romero per chi cerca magari una sufficienza questo è un po' più Romero perché Jacoponi non garantisce spesso sufficienza poi comunque gli esterni del Genoa possono far male sulla fascia quindi tra i due è Romero però comunque Bruno Alves mi piace più di tutti anche Gaiolo cioè i difensori di Parma sono più interessanti rispetto a quelli del Genoa a eccezione di Jacoponi e Cocobi puoi giocare forse anche Bastoni probabilmente recupera Bastoni ed è anche un buon nome lui perché il Genoa comunque di fronte è Gervinio inglese che è in casa sempre tu chi prendi al centrocampo da entrambe le parti uno, due, una, uno Kuczka nel Parma è sempre lui è quello che si può puntare di più e Lazovic è un nome nel Genoa per il resto non vedo tanti bonus al centrocampo Claudio in attacco invece la sfida tra i due velocisti Gervinio o Cuomo? è sicuramente Gervinio perché qua me è un po' pannato ultimamente quando è stata fatta la storia di operazione non è più fatto niente quindi confermare Gervinio anche inglese del Genoa neanche Sanabria prenderei perché non è una partita semplice quindi preferisci più il Parma sì sì da questo punto di vista sabato alle 20.30 al Bentegodi la sfida tra Vecchievo e Milan Claudio Donnarumma può essere ancora imbattuto e Romagnoli ancora una volta da modificatore sì può essere imbattuto ormai mi sa che questa difesa sta prendendo una bella difesa sì sì sta confermato ricordiamo che oggi sarà Rodriguez squalificato sì bisogna vedere quindi chi giocherà a sinistra probabilmente Luxalt forse è la prima che salta sì sicuramente quindi Luxalt mi si può dare una chance ma non penso qualcuno lo abbia confermato anche perché è centrocampista è centrocampista per cui e quindi ancora peggio ecco giocherà in difesa e poi sì Romagnoli si può confermare assolutamente anche Musacchio i due centrali stanno facendo molto bene anche Calabria e Conti o Conti non sono una cattività nel Chievo difficile perché comunque squadra in difficoltà in difficoltà difficile che si salva salvo in avanti si può dare una scienza a Castiglia e poi potrebbe magari far rifiutare Suso far rifiutare Celanovi unico intocchabile sembra Pionter sì dipende sempre dal ruolo forse da centrocampista si può schierare serenamente da attaccante magari forse preferito qualcuno più che gioca più al centro dell'attacco Pionter che comunque secondo me giocherà anche questa volta dovrebbe essere lui in un minuto sì quindi Pionter che da prima fascia come sempre è Suso deve tornare al bonus che è mancato un po' da terzo attaccante si può schierare Claudio Paquetà può essere centrocampista ormai considerato da prima fascia soprattutto in queste partite sì soprattutto in queste partite è un centrocampista da prima fascia assolutamente poi anche gli altri giocatori del Milan si possono confermare a centrocampo Baccaiocco dopo il brutto voto si può riscattare secondo me anche se non vi aspettate il bonus ovviamente nel Chievo Giaccherini può essere ecco l'unica scommessa l'unica che si può prendere nel Chievo la sfida è il lunch match alle 12.30 tra Bologna e Cagliari di domenica salvo Santanderra e Pavoletti sono entrambi da schierare? si possono mettere sì però un po' di più Pavoletti Santanderra ultimamente non mi convince tanto quindi vai controcorrente rispetto diciamo al preferire sempre quello in casa questa volta sì perché Pavoletti comunque è sempre quell'attaccante che con una mezza palla può segnalare Santanderra invece fa tanto lavoro quindi fra due Pavoletti però c'è Palacio comunque che in casa si può chieschierare e Sansone sono delle buone scelte per completare l'attacco solo niente più sempre tu Barella o Soriano? ma io metterei Barella comunque si può riscattarsi dal caldo rigore fallito ha fatto una buona partita con l'Inter nonostante il rigore appunto può anche lui tornare al bonus siccome è Giopedro Giopedro manca da tanto al bonus anche loro però non sono da prima fascia sono sempre per completare il centro-plan Soriano però è una buona scommessa nel Bologna è l'unico che si può commettere Claudio, Serna e Danilo perché cerca un 6 e mezzo sono due romi spendibili? sì ci può stare comunque sono giocatori che possono portare la sufficienza appunto e Serna può anche portare magari il bonus il solito cross per favore magari ci può stare anche per questa giornata anche Cragno secondo me può far bene come a livello di modificatore dato che porta sempre a casa buoni voti si può stare sfida fra Frosinone e Torino domenica alle ore 15 Claudio è impossibile tenere fuori Belotti dopo l'ennesima buona prestazione è finalmente sbloccato e anche in questa giornata si deve confermare dato appunto il gol quindi si può mettere tranquillamente anche a Iago si potrebbe anche schienare secondo me Zaza anche da subentrante che si è sbloccato anche per Frosinone ci può stare anche Ciano Pinamonti comunque secondo me sarà una partita da gol salvo Viviani o Baselli in mediano? a Viviani non mi piace nel Frosinone sta prendendo brutti voti quindi evitiamo assolutamente tra i due ovviamente Baselli però ad esempio Rincon mi piace più di Baselli anche vi riduce dal gol poi vabbè Ansaldi che per l'ho pezzo centrocampista ma è di Senza sì ormai però per me è un centrocampista quindi assolutamente il Torino poi è solidissimo però il Frosinone comunque un gol può anche farlo può interrompersi questa striscia di battibilità del Torino quindi dato che questa striscia potrebbe interrompere la prossima domanda che avevo per Claudio era sei grafica? no no più che altro era per quanto riguarda la difesa si può andare ad occhi chiusi sulla difesa Granata appunto io ho consigliato prima Ciano e Pinamonti però bisogna avere a che fare con questa difesa con Coulou e Sirigu esatto comunque si devono mettere ovviamente sono questa striscia positiva e quindi si devono confermare anche i controlli altra sfida a San Siro domenica all'ora 15 che vede l'Inter fronteggiare la SPAL salvo chi premi in difesa da entrambe le parti nella SPAL difficilissimo non c'è Cione difficilissimo a parte Cione che forse è l'unico da prendere ma non c'è quindi è inutile dare speranze sulla SPAL nell'Inter tutto l'intero pacchetto comunque si può mettere anche se i centrali ultimamente non stanno rendendo bene addirittura Scrina non ha mai segnato quest'anno no mi parla è strano comunque l'ora scorso ha fatto 5-6 gol quindi vabbè comunque la fiducia centrale si deve dare sempre magari una scommessa può essere d'Albert sì che magari potrebbe giocare ultimamente sta sentendo anche meglio di a Samuani quando gioca a Samuani addirittura si rimpiange d'Albert appunto perché il ganese sta faticando molto ultimamente ed Albert è anche più offensivo sempre tu può tornare al più tre politano come attaccante? come lo vedi? potrebbe sì ci sta a metterlo però perlisco Lautaro Martinez più in palla rispetto a Politano nella spalla però Petagno lo vedo così così meglio forse panchinare Petagno sta facendo bene complimenti per questa partita Claudio a centrocampo si può mettere Kurtic anche a San Siro dopo il gol incredibile ma come ultimo slot si può anche scherare se non avete di meglio anche perché se ne escono queste punizioni e andano solitamente a difficoltà non di tiri dappone vedasi Muriel esatto e quindi si può alzartare con l'ultimo slot comunque è meglio il centrocampo dell'Inter Perisic dopo lo sciagurato autogol si deve mettere ricordiamo che non c'è Besino non c'è Besino Nengolan si fa confermato perché finalmente sta portando i bonus che sono mancati più che altro sembra aver ritrovato la forma fisica quindi lui su di tutti altra sfida bella sfida questa fra Sampdoria e Atalanta sempre domenica alle 15 a Marassi Claudio Anderson o Mancini questo è tutto questo è un dubbio tutto mio li ho entrambi io li schiero a entrambi Anderson certo può portare la sufficienza più informabile perché comunque la Sampdoria dentro a casa va molto bene però l'Atalanta è l'Atalanta quindi Mancini secondo me va anche a schierare bella partita bisogna vedere se Daloi recupererà in caso Masiello non lo schiererei perché comunque sta faticando Jim City anche quindi un po' meglio Palomina sì Palomina e Mancini però Anderson e McColley non sono una cattiva idea quindi meglio i centrali diciamo dei detti sì sì salvo si possono ecco in una partita quasi bella quindi con molti nomi spendibili si possono tenere fuori questi due che ti sto dicendo al centrocampo Ekdal e Derun forse sono gli unici due dal rischio a munizione perché Derun ultimamente sta facendo fatica sì meglio anche l'erroraccio esatto meglio il compagno Froiler a livello di voto però di bonus no Ekdal non mi convince neanche gli altri centrali Linetti può essere una scommessa metterei sì Linetti nella nella Samp e Froiler come nomi per completare a centrocampo Claudio gioco di coppia per te Gabbiadini e Quagliarella oppure Gomez e Duvan Zapata questo non è banale perché tutte e quattro secondo me possono segnare però vedo il Papu molto in gambo in quest'ultimo periodo quindi secondo me va confermato Zapata può fare lo scherzetto come il gol dell'ex anche lui va messo però anche Quagliarella ovviamente non si può tenere fuori Gabbiadini si può tenere fuori però forse è l'unico quello che è parto è altra sfida domenica alle ore 18 al Mabay Stadium è Sassuolo Napoli salvo Milik da prima fascia sì da prima fascia dopo dopo essere uscito presto con la Juve vorrei riscattarsi non c'è niente potrà riscattarsi e metterla dentro questa volta quindi Milik è in signa cioè il riscatto di entrato in signa per il rigore del Sassuolo nessuno in attacco non neanche Berardi i neroverdi non ti piacciono potrebbe farlo però bisogna chi lo farà questo è anche un centropisente di un difensore ma non vedo gli attaccati a proposito di difensori Lirola o Malquith no non è Lirola che segna no chissà però Malquith sì comunque ci sta Koulibaly onnipresentante su ogni campo comunque da il reparto del Napoli sì però loro due sono Lirola o Koulibaly e Malquith perché gli altri un po' fanno fatica nel Sassuolo ancora una volta nessuno a proposito di centrocampo vediamo però se Claudio riuscirà a vedere chi segnerà quindi vediamo io infatti volevo chiedere a Claudio Locatelli e Diulicic che sono i centrocampisti abbastanza offensivi comunque possono essere schierati certo se deve segnare qualcuno magari uno o due comunque sono giocatori da inserimento però con gli ultimi slot con il Napoli non è mai semplice sicuramente meglio i centrocampisti del Napoli Zieliski sta facendo molto bene però adesso meglio di Ruiz quindi va confermato anche Kaijon che sembra essersi ripreso sì diciamo sta diventando fondamentale anche con Ancelotti e non solo per Sarri e per tutti gli altri diciamo ma per Sarri era però un punto fermissimo anche per Benitez però anche per Ancelotti è un punto fermo però non in zona bonus sì esatto ultimamente si sta ritrovando in bonus sì assolutamente sì domenica alle 20 e 30 al Franchi altra sfida molto bella molto affascinante quella fra Fiorentina e Lazio Claudio Immobile è comunque meglio di Muriel Immobile è il bomber per eccellenza quindi sì quindi si può preferire nonostante sia in calo fisico però abbiamo visto che riesce a segnare certo ha segnato sul rigore però il bonus lo può portare sempre e quindi lo preferisco però Muriel ha questi colpacci improvvisi da nulla tra l'altro ha il fattore caso della sua e quindi anche lui secondo me è la mezza Salvo Lafon e Pezzella oppure Stracoscia o Proto perché bisogna vedere se Stracoscia recupererà e Acendi ma come portieri io li vederei entrambi vedo una partita aperta possono subire entrambi 2 a 2 sì poi non mi fiderai dei portieri come difensori hai detto Pezzella oppure Acendi due baluardi entrambi sono i due leader sono quelli che si possono mettere più di tutti si possono mettere entrambi però tra i due Acendi comunque ha sempre la garanzia quasi fissa della sufficienza tra i due luci Claudio avere tu e Parolo a rischio giallo si possono lasciare fuori sì possono essere a rischio giallo comunque loro sono giocatori molto abbezzi e cartellini però avere tu secondo me da schierare è anche meglio di Parolo batti piazzati batti piazzati quindi diciamo a questa dalla sua parte nella Lazio prenderei Savic e comunque non è più il Savic che conoscevamo questa stagione però comunque diciamo si deve sempre schierare nella Friantina Benassi potrebbe dire la sua questa volta è Chiesa comunque per adesso veramente sembra in una condizione fisica non batte neanche Correa sono quelli più talentosi meglio i due centrocampisti più da bonus meglio sicuramente di Luis Alberto sì esatto l'ultimo match di questa 27esima giornata si giocherà allo Stadio Olimpico e vedrà di fronte Roma ed Empoli lunedì alle 20.30 salvo senza faccio il coloro per questa difesa della Roma diciamo si può prendere solo Florenzi ci sono d'assenza che possono pesare anche nella mia roba si fa sentire l'assenza Santone non credo sia all'altezza a meno che non batte i rigori ma non credo poi se batte i rigori mi ritiro Florenzi è Manolas che si ritorna da sicurezza a tutto il reparto anche Marcano ne beneficia di Manolas pure io beneficia di tutto perfetto nell'Empoli invece nell'Empoli di Lorenzo di Lorenzo proprio perché magari c'è Santon ma il resto no però da ultimi svolgi sempre tu data l'assenza di Geko altra assenza ovviamente nella Roma diciamo che a cui mancheranno questi tre giocatori fondamentali si può puntare su Schick ad occhi chiusi da prima seconda fascia a occhi chiusi no non è perché ad esempio si toglie immobile con una trasferta difficile mettere Schick io la penso così quindi Schick da seconda fascia comunque perché aveva la certezza di giocare forse tutti i 90 minuti sì perché Caputo invece è più una scommessa la Roma subisce magari può prendere un gol magari lo può fare anche questo bisogna sperare bisogna sperare ma è difficile comunque perché sta trovando solidità la Roma tipo con Manolas è meglio rispetto al derby quindi mancato Claudio ultima domanda per te Cristante o Kronic? meglio Cristante anche Pellegrini meglio di Cristante e quindi li metterei però Kronic è più offensivo Kronic è più offensivo e potrebbe fare lo scherzetto però pure lui è difficile da scherare quindi se non avete di meglio lasciatelo fuori un po' come il Locatelli Sassuolo-Napoli una cosa del genere con Sassuolo forse può segnare Djurjic eh sì è Djurjic il marcatore l'uomo ha cambiato idea a fine puntata il marcatore l'ho trovato Djurjic dice uno a tre l'abbiamo trovato quindi giocatevi abbiamo trovato il marcatore Djurjic giocatevi che sarà quotato anche abbastanza bene va bene quindi consigli per le scommesse sentite salvo uno Djurjic due Milik e uno insin ah perfetto quindi avete tutto scritto ragazzi anche dal punto di vista del fantacalcio quindi schierate Milik mi sto scrivendo e schierate Djurjic ottimo va bene finisce qui questa ventisettesima puntata del salotto del fantacalcio ringrazio Claudio per i suoi consigli e salvo anche per quelli dalle scommesse ah sì pensiamo che non li giocate perché se no vanno tutti in valore se no gli insulti vanno tutti a lungo esatto io me ne lavo le mani come insultare come insultare commentando commentando ovviamente sia sotto YouTube sia sotto Instagram e sia sotto Facebook in caso ovviamente taggate esatto quando sbaglia sbagliate vedi ma di domina e quindi un saluto da fantavo da fantavo grazie a tutti grazie a tutti